Organico, insufficiente calo demografico e ridimensionamento degli istituti a rischio le scuole abruzzesi a lanciare l'allarme Will Abruzzo. L'urgenza che preoccupa maggiormente riguarda una norma prevista già dalla legge di bilancio che abbassa il numero degli alunni per ottenere l'autonomia di un'istituzione scolastica. Fabiola Ortolano, segretario generale Will Scuola Abruzzo. Per la nostra regione questo diventerebbe un gravissimo problema, la dispersione delle aree interne, un territorio montuoso con dei plessi a grande distanza l'uno dall'altra. Pensare di dover accorpare queste scuole o che queste scuole non possano avere una propria dirigenza e autonomia rischia un depavoramento per quelle zone che già sono in molta sofferenza. Qual è la soluzione che propugnate? Chiaramente un emendamento legge affinché si tenga in considerazione delle peculiarità del nostro territorio così di come tutte le regioni meridionali che pagheranno lo scotto. Il 70% dei tagli che già dal 2024-25 subiranno le scuole è proprio a carico delle regioni del mezzogiorno in quanto le regioni del nord hanno già oggi dei parametri che si allineano con i nuovi dati. Preoccupante la situazione in Abruzzo dove su un totale di 193 scuole ci potrebbe essere una riduzione se applicati così come previsto i nuovi parametri di 14 unità che porterebbe il numero complessivo degli istituti scolastici a 179. E' destinato a scendere anche il numero complessivo degli alunni che al momento sono 165.000 ma che a causa del calo delle nascite potrebbe diventare in futuro molto più basso. Michele Lombardo, segretario generale, Will Abruzzo. Teniamo conto che in una regione orograficamente messa come la nostra è chiaro che l'entroterra è quello che verrà ulteriormente penalizzato. E se noi leviamo gradualmente i servizi da un'entroterra che già ha uno spopolamento ben visibile, leggevo i dati di Lopez di due giorni fa che dicono che negli ultimi 70 anni abbiamo perso il 40% della popolazione nelle aree interne abruzzesi, questo ci induce a dire con grande chiarezza che si sta andando dalla parte sbagliata perché un dato dobbiamo sapere, l'abruzzo cresce se cresce in maniera armonica, un abruzzo a due velocità non cresce.